E' già tempo di rimettersi a lavorare per la neo rieletta presidente della provincia Maria Teresa Bassaporopat che torna alla guida di Palazzo Galatti con 61.115 voti pari al 58,67% delle preferenze. Una vittoria netta la sua sull'avversario sconfitto di PDL Lega Nord, Giorgio Rett. Il ballottaggio del 29-30 maggio ha quasi riconfermato i 18 punti che avevano diviso la Bassaporopat dal suo sfidante dopo il primo turno. Ieri pomeriggio in Piazza Unità a festeggiare la sua riconferma in provincia c'era pure lei, tra applausi, baci e abbracci. Archiviati i bagordi notturni alla Usonia, a fianco del neosindaco di Trieste Roberto Cosolini, oggi la presidentessa si è rimessa subito a lavorare per la nuova giunta provinciale, senza però sbilanciarsi ancora sui nomi degli assessori che la comporranno. Da oggi pomeriggio quindi si comincia a lavorare sulla composizione della nuova giunta. Sì, più che sulla composizione, sulla ridistribuzione delle deleghe, perché adesso per legge noi passiamo da sette assessori a cinque assessori, quindi le deleghe dei due assessori, diciamo che non ci saranno più, devono essere ridistribuite tra gli altri. Parte della giunta, penso di assolutamente riconfermarla, non ho ovviamente, non mi sono interfacciata con i diretti interessati, per cui non faccio nomi, insomma, anche per correttezza nei loro confronti, anche perché devo acquisire la loro disponibilità. Almeno il 50% di donne, la disponibilità ad essere a tempo pieno in giunta, quindi chiunque ha un'altra occupazione, si mette in congedo, fa quello che vuole, ma insomma è a tempo pieno, perché ho visto in questi cinque anni che la presenza dell'assessore in questa struttura è fondamentale, la competenza rispetto alla delega.